Jess Glynn sostiene che non farà la stessa fine di Amy Winehouse. Ad accomunare l'emergente artista 26enne e la cantante morta a 27 anni nel 2011, oltre alla passione per la musica, c'è lo stesso quartiere nella periferia nord di Londra, in cui le due sono nate e cresciute. Parlando alla rivista Fabulous, Jess ha dichiarato di essere circondata da persone affidabili che, a differenza di quanto è successo alla Winehouse, non le permetterevano di intraprendere delle strade pericolose. Grazie per la visione!